Ci sono le ragioni e ci sono le regioni. Le ragioni sono le stesse sul territorio nazionale. Le regioni invece cambiano, almeno a livello di tempo. Ma la sostanza non cambia. Oggi sciopero generale. A proclamarlo non è la triplice, ma due sindacati, CGL e UIL, in piazza contro la finanziaria e le politiche economiche e sociali del governo Meloni. Lo sciopero di otto ore, si sa, riguarda tutti i settori, con l'unica eccezione dei trasporti, che devono fare i conti con le precettazioni del ministro Matteo Salvini, che ha decurtato di fatto lo sciopero di quattro ore. Stop quindi dalle 9 alle 13, anche a Pescara. Ma evidentemente Trenitalia ha capillarmente messo in guardia i possibili viaggiatori, perché la stazione si presentava abbastanza deserta questa mattina. Al momento della realizzazione di questo servizio, Trenitalia non presentava nessuna soppressione, un paio invece quelle della tua. Tornando a Trenitalia è stato possibile mantenere i viaggi programmati, anche perché il personale viaggiante che ha deciso di aderire allo sciopero è stato sostituito con il personale di scorta, sempre previsto. Chiusa però la biglietteria. La linea di massima alla stazione è sicuramente pochissimo affollata, con gli sportelli chiusi, però quelli che hanno deciso di sfidare lo sciopero e di mettersi in viaggio lo stesso, al momento sembra che siano riusciti a farlo con una certa regolarità. Vedremo nel corso della giornata, ricordiamo che comunque lo sciopero dei trasporti termina alle ore 13. Parte o arriva? Devo andare a Lanciano in questo caso, devo partire. E riesce? Speriamo. Sta prendendo il treno o si è portato il monopattino perché dice se casomai il treno non c'è perché lo sciopero? No, io lo porto sempre il monopattino. Ovviamente era una battuta, ma il suo treno è regolare? Sì. Ha trovato problemi lungo la linea, ritardi? No. Tutto tranquillo? Sono partito da Lecce alle 5.55, tutto normale. Ed è diretto? A Silvi. C'era gente sul treno oppure? Non molto. Grazie. 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 Grazie.